Bello ragazzi e ragazze per tenere qui sul canale Grana S e oggi siamo qui di nuovo con il 94% Se volete al livello 17 che è il mio numero preferito quindi lo farò io E chi comanda? Di chi è il telefono? E io non ho un telefono E chi comanda? Io? E quindi? E di chi è la casa? Mia? E di chi è il canale? Mio? Non vedo niente Di chi è la tua vita? Mia? Dai fammi fare 17 Fermo Comunque 17 Fammi fare 17 almeno grazie Allora parola gergale per denaro Soldi Grana Quattrini Quattrini Sono il 2% Contanti Contanti Dindi Dindi se posso Anzi dammi i dindi Oh dindi Ma davvero? C'è preso dindi Quanti dindi voi? Soldi Banconota Non so se contanti Assegno Gergale Dindi E resto dammi resto No infatti Dammi i dindi i soldi I danè I danè I danè A milano si dice il danè Ma che? A milano si dice il danè I contanti il danè Per favore milano non ha un dialetto Metti il danè Metti il danè Danè Danone No, 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 no E no Denaro E' denaro Però metti Il danè Vedi? Vedi? Ma non mi sappia Azzitammi i dindi, azzitammi i spicci, azzitammi i sordi, azzitammi i quattrini, azzitammi i quadrini, a Roma, fatti, è vero, ci sono i mini quadrini, azzitammi i quadrini, mancano un per cento, dai cerchiamolo, mettiamo un per cento, seguo la P dai, vabbè proviamo questa altra intanto, 3%, 3%, non ne so, dammer verde, dammer verde, I verdoni, i verdoni, però in idea non si dice verdoni, infatti i verdoni e i dollari, però vabbè è stupido, ma ha messo denaro, tra parola gergale per denaro, un per cento non lo so mai, non ne ho idea, quella P, no vabbè, peluria, la peluria, dammi la peluria, dammi la pecunia, la pecunia, non era quella cosa di Romani in pratica, c'era un tanto tempo fa, dimmi pecunia, immagini, oh porco 2, Eh vedi che non devi scrivere, no, fa cagare le con, eh sì, certo, no, hai mai detto, ok, fantastico, la regione perfetta per le vacanze, Calabria, Sicilia, Sicilia, porco 2 Sicilia, come non, non mettere il, oh il Molise, cazzo, è giusto, porco 2 Molise, infatti non esiste, niente, è l'ennesima prova che il Molise non esiste, Eh vabbè, la Toscana, non è brutta come è, vabbè sì, la Toscana bianca, sicca, con la irgola, eh cazzo, Valdi, Aosta, sì, certo, spazio fra di Aosta, vabbè, porco, Aosta, vabbè, vabbè, Trentino, Trentino, infatti c'è troppo di video quando Aosta, manco il Trentino, vabbè, è Toscana, Emilia Romagna, Romagna, vabbè, 3%, no, no, 2, eh, Veneto, Friuli, C'è qualcuno che va in vacanza in Friuli, no, eh, Trentino, Liguria, Liguria, dici, fa schifo male, però, la Corsica, Campania, ah, Campania, cazzo, Napoli, non ci stavo a pensare, Campania, vabbè, questa è stata facile facile, anche perché regioni sono 20, la volta che hai scritte tutte, mongoloide, vabbè, pittura, pittore, vabbè, che pittura, secchio, pennelli e scala, dai, scala, pennelli, Bella regà a tutti, ciao regà, ciao regà, è stato bello di tolma forti, ciao a tutti, bella, quella tocca a me andiamo al livello 18, ragazzi, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 18, donna incinta, cogliona, bambino, scappare, Donna incinta Errore Sbaglio Servativo rotto Tutto quanto vai Donna incinta uomo scappato Uomo scomparso Vabbè ecografia Sparire Parto Dolore Parto E' l'uomo E' l'uomo che dice io parto Amore sono incinta parto Si certo Certo tra 9 mesi No io parto ora Questa non ti parla La cloroformio Un pesa di merda Che cazzo Posto sull'autobus Io vorrei essere incinta solo per quello Vero Tutti sarebbero Arcaia I file Tutto quanto Per favore Per favore il posto Di centri commerciali C'hai Donna incinta Cazzo E' entrato un cazzo Per forza Spermatozoo Spermatozuzzo Cellula Nucleo Basta DNA Citosol Mamma cazzo Nausea Io sto di tutti C'è Che cazzo mamma Mammelle Mammelle Latte Oh latte Anche la sola Gravidanza Forse Oh Credeble Mamma mia Fantastico Ma che cazzo Cazzo C'è Vabbè vai GPS Posizione 69 Ti giuro Non l'ho messo Tanto Meno GPS GPS Vabbè però Se deve incazzare Facciamo anche noi Vai Tom Tom Pronto Tanto Tanto Sta facendo questa cosa Comunque Ehm Ah Pure tu telefono Viaggio Navigatore Salva a quello Olle Oggi stavano a pubu spediti Grazie a Grazie a dio Sì Colloquio Test Di cazzo Colloquio Lavoro Uomini Donna Lavoro Lavoro Elegante Elefante Elegante Non lo so Elegante Coglio Camicia Cravatta Sedia Ovviamente pure io Sedia Carta Muro Attesa Attesa Mamma Bambino Cazzo C'entra Sperma Speranza Speranza Presa 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 Assunzione Speranza Lavoro La Bamba Sal bianco Lavoro No C'è una lettera 5% U Uomini E l'hanno già messo uomini Non c'è la m Comunque non c'è la m Perché non ce l'avete tutta l'immagine I due donne Non c'è stavano U U U U Ufficio A posto La Bamba Ok ragazzi abbiamo completato anche il livello 18 E noi al prossimo video siamo pronti per andare al livello 19 Andare a un livello successivo Ad innalzarci verso la vetta del 94% Che so tipo 85.000 livelli Esatto Perciò ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciamoci qui un like Noi come sempre ci becchiamo al prossimo video Te grazie tutto Bella